Che effetto fa tornare in Abruzzo d'avversario? Beh, io sono abruzzese di origine, di nascita, da generazione, quindi sono un amico di tutti, un amico di Reteotto, un amico del Presidente, tifoso del Pescara da piccolo, quindi venire qua è sempre una bella emozione. Che grosseto è stato? A mio giudizio è buono? Ha spaventato tanto nel finale, Capallo? Ma abbiamo fatto la nostra onesta partita, volevamo fare il risultato assolutamente, ci abbiamo provato, abbiamo purtroppo preso quei due palli, l'ultima azione potevamo pareggiarla, lo meritavamo anche, però è andata così, faremo di nuovo giovedì e poi l'altra domenica a Olbia, cercheremo di fare sei punti e vedere quello che succede. Chiedo l'ultima cosa, chiedo perché ha detto che sono amico del Presidente, sono amico dell'Abruzzo, tifavo Pescara da piccolo, allora non parli da dirigente del Grosseto, parli da tifoso del Pescara, che Pescara ha visto? Ma un buon Pescara, una squadra strutturata, forte, secondo me ce la deve mettere tutta, di fare questi sei punti e poi giocarsela, il mister è bravo, lo conosco e quindi sperando che faccia questo grande risultato che ci aspettiamo tutti gli abruzzesi.